saranno a cura dell'azienda pubblica, presto i primi bandi di gara mentre i cantieri sono previsti all'inizio del nuovo anno. Ce ne parla Nicola Scano. Per la nuova Sassari Olbi a 4 anni di lavori e 78 chilometri a 4 corsie si aprirà il primo cantiere entro il primo trimestre del 2011. L'annuncio è ufficiale, il presidente Capellacci e quello dell'ANAS Pietro Ciucci fanno il punto sui finanziamenti e chiariscono il percorso per la realizzazione dell'opera. Servono 700 milioni, ce ne sono quasi 500 160, quasi tutti da fondi FAS regionali, 160 il primo lotto dal Fondo Strategico Nazionale a Sostegno dell'Economia. Il resto arriverà da una ricognizione successiva su somme non impegnate. Nei tavoli tecnici politici ministeriali a Roma quando si fa riferimento alle infrastrutture che possono essere avviate immediatamente la prima che viene elencata è proprio la Sassari Olbi. Questo per noi è positivo ma è il frutto di una mobilitazione generale del territorio, della politica che ha lavorato a un obiettivo che per noi era diventato un imperativo categorico. La convenzione assegna all'ANAS il ruolo di soggetto attuatore, affiderà i lavori, controllerà le progettazioni, svolgerà tutto il monitoraggio dell'opera in stretto collegamento con la regione e le amministrazioni locali. Abbiamo tanti cantieri aperti in questo momento per oltre 400 milioni di euro di investimenti, ne abbiamo completato lavori anche durante quest'anno per lavori importanti sull'orientare Sarda, sulla 125, sulla Carlo Felice. Vogliamo continuare così e dimostrare con i fatti che con una ritrovata efficienza e con un stretto dialogo con la regione è possibile raggiungere i risultati secondo i programmi annunciati. Ora decolla una struttura operativa dedicata alla Sardegna. primo obiettivo accorciare i tempi di progettazione.